ma io non l'ho presa non l'hai visto? non l'hai visto? ma l'hai visto? ehmì, questo è forte proprio guarda l'altra ma questo è un piccolo ma questo è un piccolo ma questo fanno anche i palleggi 150 palleggi 724 si Daniel anziché parcheggiare a canna parcheggiare all'agic l'importante è che la peppina non mi vediamo in più un Giacchietto si bascò se l'hai ancora batteria nel telefono? no se l'hai ancora batteria nel telefono? no ecco la pezzi